Signori, ecco a voi Ciruzzo! Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce sono Maria Ritarena e sono vicepresidente di Assotenti Sicilia. Oggi siamo qui per l'inaugurazione di Ciruzzo, che è un pesce mangiaplastica, che Assotenti, insieme ad altre associazioni, sta portando in giro un po' per l'Italia. Ci sono diversi Ciruzzi posizionati in diverse città marinare. Ciruzzo rientra, mi preme dirlo, in due progetti finanziati da due ministeri, il Ministero dello Sviluppo Economico con il progetto Costriamo Circolare e il progetto Educo finanziato invece dal Ministero del Lavoro. Gli obiettivi di questi progetti sono in primis il sensibilizzare quanti persone possibili e soprattutto i ragazzi più giovani alla lotta contro i rifiuti in mare, che soprattutto per noi che abbiamo questo bellissimo mare è fondamentale. Ancora purtroppo è un tema che non molti sentono, quindi ha questo scopo di sensibilizzare quante più persone possibile e di portare i ragazzi a concepire un'economia sostenibile. Noi l'abbiamo definita un'economia circolare, quindi l'economia del riuso, in contrasto con quella che è l'economia lineare, cioè l'economia dell'uso e getta. Lo scopo di Ciruzzo principale è questo. Adesso volevo, permettetemi prima di ricevere la parola, di ringraziare sicuramente il Comune di Mazzara perché ci ha permesso, e l'assessore Reina che è venuto qui con la sua presenza, che ci ha permesso di installare Ciruzzo in questo luogo bellissimo che è lo skatepark. E tutta l'amministrazione comunale che si è dimostrata particolarmente sensibile a questo tema che per noi è stato fondamentale avere questo tipo di risposta anche dall'amministrazione. Ovviamente non c'è purtroppo, ma devo ringraziare anche il signor Asaro, che è il presidente della Casa del Pescatore, che ci ha permesso di avere queste reti bellissime che i ragazzi hanno utilizzato per abbellire Ciruzzo. Ed infine, ma non per importanza, tutti i ragazzi, gli insegnanti, il presidente Vitta, che hanno permesso a Ciruzzo di diventare così bello, insomma. Adesso non vi rubo altro tempo, passo la parola all'assessore Reina. Intanto ringrazio tutti i presenti, do il benvenuto ufficiale a Ciruzzo, nella nostra città, la città di Mazzara del Vallo. Noi nonostante abbiamo una buona percentuale di raccolta differenziata, non finiremo mai di trasmettere messaggi positivi per la raccolta differenziata. E questo è il messaggio che manda Ciruzzo. Aiutateci ancora di più a fare raccolta differenziata perché, come diceva la signora, questo mare, il nostro ambiente, lo merita. Il ringraziamento va fatto ai ragazzi che si sono così impegnati per mettere su Ciruzzo, ma quello che vi chiediamo è di trasmettere il messaggio di Ciruzzo ai vostri compagni, ai vostri amici in giro per la città, anche fuori dalla scuola. Perché è necessario? Perché lasciare ai nostri figli il mondo che abbiamo trovato in queste condizioni è un nostro dovere, non lasciarlo peggio di come l'abbiamo trovato. Perciò vi ringrazio per tutti e vi auguro sempre buon lavoro. Grazie Assessore. Do la parola al Professore Signorello che vuole dire anche lui due parole. Buongiorno a tutti. Intanto grazie a tutta l'amministrazione comunale che ha accolto questa iniziativa per il Ciruzzo, il pesce e mancia plastica. Io mi chiamo Domenico Signorello, sono un docente del laboratorio del liceo artistico di Mazzara del Valle, docente di design dell'oreficeria, dei metalli dell'oreficeria e discipline plastiche. Ovviamente anche noi come istituto, in primis il nostro direttore, il nostro dirigente scolastico, il professor Alberto Ditta, accoglie questa iniziativa a buon volentieri. Noi essendo il liceo artistico abbiamo tanto amore per l'arte e per la nostra città. L'arte, come sapete già, è un mezzo di comunicazione e questo è un messaggio importante che diamo a tutta la città, a noi e alle generazioni future che verranno. Ci siamo prodigati, dicevo, amorevolmente e piacevolmente a decorare Ciruzzo e pesce e mancia plastica con il materiale che ci è stato fornito, altro materiale che abbiamo portato dalla scuola. Devo dire con molto piacere che il pesce che ha una forma così quasi ellittica, molto graziosa, io devo parlare anche dell'aspetto tecnico. La nostra percezione visiva percepisce tantissimo le forme regolari, anche se delle volte complesse ma regolari, che hanno un andamento sinuoso e garbato. Così ellittico come il pesce abbiamo cercato di impreziosirlo, oltre alle reti, alle corde colorate, con della foglia oro. Queste luccichie che vedete non è vernice ma è oro, oro zecchino fatto a lamina sottilissima, quasi imbalpabile, e delle pietre colorate che vogliono impreziosire il tutto. Intanto il pesce è il simbolo dell'iniziativa, è un'iniziativa nobile, e noi questa iniziativa nobile la vogliamo impreziosire con, diciamo tra virgolette, lustri dell'oro, delle pietre perché fanno parte anche del nostro laboratorio artistico, un design di metallo e del gioiello, perché oro è prezioso il mare, oro è prezioso l'iniziativa, oro è prezioso il futuro che viene dal mare, in questo caso il lavoro per le nostre famiglie, e quindi il tutto è racchiuso in una nobiltà d'animo, ma anche una nobiltà di pensiero, perché l'esternazione di un pensiero nobile si traduce attraverso, o meglio passa, anche da queste cose. Quindi nobile nel pensiero e nobile nell'esternazione. Penso di aver finito. Grazie ai ragazzi, grazie all'iniziativa, grazie sempre al nostro dirigente scolastico, come sapete voi, insomma è molto favorevole a questo tipo di iniziativa, perché l'arte è un mezzo di comunicazione, oltre che a immagine visiva. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti, spero che il messaggio rimanga e permanga, e Ciruzzo ovviamente viene donato alla città di Mazzararevallo, e quindi rimarrà a loro libera disposizione. Grazie a tutti, arrivederci.